Enzo Fileno Carabba, buongiorno! Buongiorno! E benvenuto, anzi bentornato qui nel posto delle parole per condividere il suo nuovo libro pubblicato da Ponte Alle Grazie il libro intitolato Il Giardino di Italo Leggo nel risvolto di copertina che Enzo Fileno Carabba è nato a Firenze, è un autore di romanzi pubblicati in Italia e all'estero di racconti, sceneggiature radiofoniche, libri per bambini, libretti d'opera e poesie qual è l'ultimo libretto d'opera che ha scritto Enzo Fileno Carabba? I libretti d'opera li ho scritti molto tempo fa, a dire la verità ne scrissi uno per Carlo Boccadoro, non ricordo ora quando è un po' di tempo che non scrivo libretti d'opera però ho fatto degli intrecci musica parola con testi miei anche col digiunatore abbiamo fatto degli incontri diventato un po' non un vero libretto d'opera però c'era una partitura che si intrecciava con precisione col testo Il digiunatore, lo ricordo, è il penultimo libro sempre pubblicato da Ponte Alle Grazie vincitore del premio comisso Enzo Fileno Carabba, entriamo in questa storia la fascetta che, le fascette non le butto mai anche perché hanno un valore pratico oltre a quello dell'indicare una curiosità di lettura il giardino botanico della casa di Sanremo e tutti gli altri prodromi della lingua di cristallo di Vitalo Calvino raccontati con gli occhi dell'infanzia e con inaudita freschezza sono parole che impegnano parecchio Enzo Fileno Carabba ah sì, a me piacciono molto naturalmente inaudita freschezza mi piace moltissimo inaudita freschezza perché la troviamo veramente in questo libro che si sviluppa di circa 150 pagine il giardino di Italo, cominciamo a entrare con la nostra discrezione in questo giardino di Italo partendo da che cosa Enzo Fileno Carabba? partendo da un'immagine un po' surreale l'immagine di copertina l'immagine di un artista americano, Rob Browning che cosa ci racconta? quello che mi piace di questa immagine è che non è Calvino quindi io inizio parlando di questo Italino che è Calvino da giovane, da bambino e poi da ragazzo questa è la base del test per lo più parlo di Calvino, di questo Italino da bambino e da ragazzo poi mi proietto anche in Italo Calvino lo scrittore adulto però ecco ci tenevo a questo sdoppiamento Italino è lui e non è lui anche se certo e questo mi sembra che si rispecchi nella copertina in qualche modo in quest'uomo che ha gli occhi chiusi ci sono delle nuvole quest'opera tra l'altro fa parte di un trittico e questa è la parte centrale di quest'opera di Rob Browning e poi c'è questo cielo enorme che campeggia su questa immagine di copertina e questo ci fa entrare già a respirare un po' questa vita letteraria ma non solo di Italo Calvino lei aprendo il libro scrive Nota delle sorgenti lei ce l'ha per caso il libro portato di mano Enzo Fileno Carabba? sì sì è qui ce l'ho di fronte che compagnia le fa questo libro questa sua nuova creazione? non saprei definire la compagnia però per me è stata una grande emozione schifo diciamo cresciuto come tanti della mia generazione non solo con Calvino non solo con Calvino però Calvino era una presenza molto i libri di Calvino intendo era una presenza molto importante allora nel bene e nel male a chi piacevano a chi no per esempio sì naturalmente però comunque era una presenza fondamentale e quindi per me riconnettermi diciamo così è stato bellissimo perché io mi sono diciamo così ricollegato come dire anche al mio al mio Calvino uno attraverso la vegetazione perché Calvino cresce in questo uno dei genitori lei è grande botanica lui è grande agronomo comunque grandi esperti di vegetazione in qualche modo rifiuta racconta racconta spesso questo 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 dissidio questo dimenticare i nomi delle piante quasi per per reazione però anche in qualche modo li assorbe questo almeno penso quindi c'è una lotta c'è una lotta c'è un rapporto particolare che aveva a me sembra con la natura da una parte appunto genitori espertissimi dall'altro lui attratto dalla città e poi il giardiniere Libereso Guglielmi di cui diremo fra poco perché è una presenza straordinaria nella vita di Italo Calvino oltre ovviamente ai genitori però vorrei condividere insieme con lei Enzo Fileno Carabba la nota delle sorgenti ce la può leggere? Ah sì 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 dunque eccomi qua ve la leggo subito una volta ho fatto una passeggiata per vedere la sorgente dell'Arno sul monte Falterona nel bosco c'era una carga sorgente del fiume Arno ma niente acqua il mio amico esperto in sorgenti mi ha spiegato che a volte la sorgente è una specie di fontana come la immaginavo io altre volte è un concetto diffuso comprende molti rivoli che sgorgano o non sgorgano in una vasta zona in questo secondo caso la sorgente come zampillo univoco non esiste assomiglia a un'idea astratta eppure eppure il fiume appare eppure il fiume appare e qui si apre come per dire la porta di casa di casa Calvino e andiamo a scoprire questa questa idea di scrittura che come un fiume appare prima in forma carsica se così vogliamo deve vogliamo dire e poi deve formarsi deve formarsi la vita la vita di quest'uomo che lei comincia a raccontare con queste parole c'era questo bambino molto bravo che viveva in un giardino incantato pieno di cartellini lei poco fa parlava delle numerose piante pieno di cartellini perché ogni pianta aveva il suo nome scientifico ora questo libro mescolando l'immaginazione la ricerca la ricerca storica la ricerca biografica ci mette nella condizione veramente di comprendere di comprendere lo sguardo lo sguardo lo sguardo di di Italo Calvino e a proposito di immaginazione lei nella pagina dei ringraziamenti Enzo Fileno Carabba scrive una cosa che mi piace condividere laddove leggo cerco sempre un barlume di verità prima di immaginare qualcos'altro così ho chiesto aiuto diverse persone ora questo credo che sia una cosa molto bella molto seria una sorta di disciplina anche nello scrivere cercare un barlume di verità prima di immaginare qualcos'altro quindi bisogna avere il vero per immaginare qualche cos'altro sì esattamente questa è proprio una cosa a cui io tengo moltissimo perché quando ho cominciato a scrivere credevo nell'immaginazione libera e cercavo di praticarla poi mi sono accorto che almeno la mia risultava in qualche modo ripetitiva non raggiungeva quelle profondità che pensavo di avere e che magari non sono così interessanti e quindi per me lo scontro invece l'incontro e a volte anche lo scontro col materiale con la documentazione interna esterna esterna a me e fa stiché come dire mi arrivino delle idee nuove quindi io mi documento non tanto per non sbagliare quanto proprio per avere perché la documentazione produce una specie di compressione sull'immaginazione diciamo così una compressione fa scattare una molla almeno io ho questa esperienza come delle visioni diciamo però delle visioni che sono basate sullo studio cioè una prima fase di studio una seconda di dimenticanza e una terza in cui scrivo quindi da una parte dico che disdetta perché se io ricordassi tutto quello che studio perché in fondo io studio molto poi dimentico quasi tutto ma spero che se ricordassi tutto quello che studio sarei veramente uno studioso di quelli che ricordano tutto ma invece non è così ma penso spero voglio credere che questo studio poi confluisca in queste scene dove c'è una parte di invenzione ma è un'invenzione appunto che nasce da in qualche modo da una ricerca della verità eh sì infatti lei scrive che cerchiamo allora quel margine di libertà che ci permette di puntare al cuore delle questioni e il cuore della questione qui è farci immaginare Italo Calvino nella sua nella sua verità e nella sua nella sua finzione narrativa no poco fa dicevamo del vero e del fantastico è un po' come quando lei racconta che il piccolo Italino si avvicina al mare viene travolto da un'onda che lo rimescola gli fa capire che che le persone poi non sono così possiamo dire matematiche no uno più uno fa due no noi siamo siamo scomposti no siamo non siamo perfetti allora che qui si accende si accende un dialogo se vogliamo Enzo Fileno Carabba spero di aver inteso bene tra quello che è la fantasia e tra quello che è quello che diciamo poco fa la razionalità e qui nasce la voce poi dello scrittore Italo Calvino sì io penso che penso che sia proprio così perché più spesso viene elogiata la lucidità la precisione di Calvino le famose lezioni americane sì però anche delle lezioni mi sembra leggendole attentamente traspare che c'è una lotta una lotta diciamo interiore tra forze divergenti in Calvino se no non avrebbe avuto quella potenza fantastica c'è l'aspetto razionale ma c'è anche l'aspetto non voglio dire irrazionale che sarebbe una diciamo parola un'eresia in Calvino ma certo ci sono delle pulsioni fantastiche fortissime a cui io tengo perché credo che siano la parte migliore della tradizione letteraria italiana poi un po' inaridita ma c'è una parte più più vera perlomeno quello che a me piace di più ecco e quindi ho immaginato questo onda siccome in Palomar uno dei libri finali di Calvino Calvino descrive un'onda c'è proprio un capitolo lettura di un'onda e naturalmente geniale però a me sembra che lui si annoi di fronte a quest'onda vista da fuori cioè si annoia genialmente questo non c'è dubbio però si annoia allora mi piaceva immaginare che da ragazzo fosse stato preso da un'onda fortissima che non è che lui la guardava da fuori e la descriveva ma proprio che l'ha ribaltato e penso che sia vero che se non è successo con un'onda fisica è successo con un'onda emotiva che gli rimescolano tutte le parole dentro e quindi sono questi due aspetti in lui che lottano e a proposito di fonti ci tenevo a dire che una delle fonti per me era appunto la presenza della vegetazione diciamo così della mentalità vegetale che è una mentalità mi piace immaginare fatta da reti da contatti e anche tra piante diverse e l'altro sono i fumetti perché Calvino ne parla ma non è mai stato credo analizzato nei dettagli nell'influenza dei fumetti del Corriere dei piccoli però lui dice proprio che la formazione per lui determinante è stata tra i 3 e i 6 anni cioè prima di imparare a leggere e scrivere guardando le figure e siccome io mio padre era uno studioso di cinema ma anche di fumetti e io per l'appunto sono cresciuto con gli stessi fumetti perché studiavo i fumetti negli anni 20 anche e quindi questo contatto per me intimo segreto ritenevo segreto insomma tra me e questo italino volevo volevo raccontarlo ecco l'invenzione della vita mi sono parlato di cinema mi ha ricordato una sottolineatura che sono andato a riprendere l'invenzione della vita assomiglia all'invenzione del cinema sì 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 e tra l'altro Calvino parlando del cinema ha scritto una bellissima autodigrafia di uno spettatore dove racconta il suo rapporto col cinema perché dopo il rapporto stretto col fumetto venne quello col cinema e parla di un diritto di un bisogno all'evasione e allo spazamento questo bisogno di spazamento che mi sembra in effetti importante perché per lo più la parola evasione evasione negativa però spazamento è un'altra condizione dell'essere sì questo è vero però mi sembra che in quel capito gli avvicini quasi nella stessa frase diciamo che attraverso questo spazamento ora lo ricostruisco io come l'ho intesa attraverso questo spazamento c'è anche un'evasione da una da una dimensione diciamo standard ecco c'è un rinnovamento ecco parla proprio del fatto che attraverso lo spazamento la sua attenzione viene come dire dirottata in uno spazio diverso e in questo questo ora lo aggiungo io mi sembra di poterlo aggiungere in questo c'è un'evasione dall'altra parte mi ricordo Tolkien quindi un autore certo lontano apparentemente però non lo so se è così lontano che disse beh c'è la come era l'evasione del fuggitivo ma c'è la santa fuga del prigioniero e quella è giusta eh sì la fuga del prigioniero che è giusta e d'altra parte la scrittura di Italo Calvino ci ha permesso libro dopo libro di fare noi stessi delle fughe che cosa fa Palomar per esempio visto che lei parlava di Palomar a proposito dell'onda Palomar è un uomo che è ridotto a uno sguardo no Italo Calvino indugia volta per volta eh nello sguardo ad esempio quella dell'onda che Palomar non è che sta contemplando l'onda ma la guarda la guarda il suo stato d'animo è molto molto diverso e questo libro ci permette ci permette di entrare nella storia nello sguardo di Italo Calvino ma ci permette anche di andare a riprendere i libri di Italo Calvino leggerli scoprirli o riscoprirli perché perché è importante è importante e ha maggior ragione che quest'anno ricorre il centenario e quindi credo che sentiremo parlare giustamente tanto di Italo Calvino ma è giusto anche oltre a sentirne parlare leggere di Italo Calvino e adesso rientriamo rientriamo Enzo Fileno Carabba nel giardino di Italo il titolo del suo libro peraltro è questo e andiamo a scoprire la presenza dei genitori è una presenza importante due persone che facciano della scienza i loro rigori di vita ma parliamo per esempio del giardiniere il giardiniere è un'altra figura straordinaria che 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 è fondante anche per la vita di Italo Calvino non solo come nella sua vita personale ma anche come scrittore Libereso Guglielmi ecco che figura è quella di quest'uomo sì naturalmente il punto il mio ribadisco non è non è un saggio certo ho utilizzato ho studiato ho letto ho avvicinato come dire i documenti che i testi che raccontavano la realtà della giardiniere di Calvino a un certo punto arriva questo Libereso Guglielmi che è un ragazzo suo coetaneo che lavora col padre nel centro diciamo sperimentale di floricultura ed è questo mentre Calvino viene descritto anche da Libereso stesso Calvino e suo fratello come due vengono descritti come due ragazzi i genitori gli mettono il grembiolino le forbicine molto ordinati no? molto precisi anche se poi Calvino butta via le cesoie butta via il grembiolino perché non vuole dedicarsi a queste cose Libereso invece è molto più diciamo selvatico selvaggio a piedi nudi petto nudo capelli lunghi si arrampica sugli alberi prende gli animali con le mani delle biffe infatti ricorrerà insomma compare anche nei racconti di Calvino questa figura e che in qualche modo assomiglia potremmo dire a Tarzan infatti uno potrebbe pensare ci sono dei collegamenti evidenti anche se anche evidenti diversità tra Tarzan e il barone rampante comunque gente che sale sugli alberi Tarzan più selvaticamente il barone rampante in modo più elegante e Tarzan era Libereso Guglielmo in sostanza è vero leggo ho letto che scrissero una lettera anni dopo Sanremo Tarzan e questa lettera arrivò davvero a Libereso Guglielmo Guglielmo e tra l'altro italiano Calvino giovane era molto appassionato al personaggio di Tarzan a proposito di fonti di sorgenti dell'immaginazione era appassionato e disse che avrebbe voluto scrivere un romanzo in tarzanese e a proposito di Tarzan è la scimmia sono due figure inscindibili e qui è venuto il momento a proposito di scimmia di tirare in ballo un personaggio straordinario Serge Voronov sì sì perché questo personaggio che abitava là vicino insomma non troppo lontano da Vina Meridiana dove appunto abitava Nicalvino è un personaggio che ebbe un successo a quanto pari in quegli anni straordinari straordinario un successo straordinario perché aveva un allevamento di scimmie e sosteneva che diciamo innestando testicoli di scimmia nell'uomo si poteva passare dal dal cretino al genio scrive proprio un libro dal cretino al genio cioè queste questi questi innesti avrebbero portato sia al al fatto che l'uomo veniva rinvigorito da tutti i punti di vista naturalmente anche l'ingiovanito ma anche l'intelligenza l'intelligenza appunto sarebbe stata potenziata e a quanto pare sembra incredibile ma le nostre vicende di esseri umani se non va a vedere nel tempo sono incredibili ne pensiamo diciamo di tutti i colori nel bene nel male aveva tantissimi ma anche soprattutto credo delle altre società che volevano farsi fare queste queste operazioni e quindi questo non può non avere influito penso io almeno nell'immaginazione sull'immaginazione di Calvino che da una parte appassionato di Tarzan e anche del libro della giungla non a caso anche del libro della giungla e e poi questo allevamento non troppo lontano di scimmie che in qualche modo proiettavano l'uomo in un futuro migliore non può non avere influito ecco Enzo Filino Carabba lei come ha incontrato la scrittura di Italo Calvino con quale libro? Dunque io l'ho incontrata molto presto direi perché lo reggevano da da bambino però per quanto il vero incontro cioè quello che che mi ha dato maggiore soddisfazione è stato credo alle medie alle medie per l'appunto il barone rampante credo che per molti almeno per molte delle persone che conosco quello sia stato il grande impatto e la grande diciamo si sente proprio un'esplosione una gioia anche un divertimento mi sembra che nella prefazione a forse al visconte di Mezzato parla proprio di un diritto al divertimento altro concetto un po' tabù diciamo nella cultura che si ritiene alta insieme a quello di spaesamento quello di evasione anche il divertimento invece lui ne parla proprio il diritto al divertimento che penso che abbia importantissimo in realtà nella nostra vita e direi sì che a livello mio vero personale sia stato quello l'incontro ecco l'incontro con questa storia ambientata perché sì da bambino mi hanno letto Marco Valdo ma io non sono mai stato un grandissimo appassionato ecco ora leggendolo da grande ma mi dava un'eccessiva tristezza ecco invece o comunque un velo un velo così di malinconia invece appunto nel parte di sconti di mezzato con le invenzioni c'è un'invenzione fiabesca molto forte molto sì ed è anche uno spirito in qualche modo beffardo sottilmente anche neorealista sì io però personalmente ma questo sono proprio gusti diciamo per ovviamente motivazioni chissà come psicologiche o psichiatriche io tengo più al calvino fantastico e anche beffardo sottilmente beffardo e paradossale rispetto diciamo al calvino serio spesso viene che poi le due cose in realtà non sono affatto in contraddizione è tutto molto più complesso però ecco a volte lo sento descrivere come calvino gran lavoratore calvino serio calvino lucido calvino impegnato e io un autore così descritto così non lo amerei mai no? così il mio spirito il mio spirito l'amore per gli autori paradossali mi allontanerebbe invece anche quando è molto serio c'è ogni tanto una scintilla qualcosa cosa che che rivalta o che mi sembra ribalti quello che sta dicendo Enzo Fileno Carabba autore del libro Il Giardino di Italo il romanzo pubblicato da Ponte alle Grazie ma prima di salutarci invece qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? beh ho appunto fino a poco tempo fa mi sono immerso rimerso in tutto Calvino ora ho fatto tutte riletture dunque ora ho riletto Woodhouse autore comico che che io amo e in particolare Perfetto Gips è bello però sentire ogni tanto questa questa presenza di Woodhouse che forse rimane un po' rimane sempre un po' mi correga se sbaglio non dico in un angolo ma è tra quelli non molto citati per l'esattezza che ne dice? no è verissimo io lo trovo ha creato come hanno detto anche altri un mondo unico e tra l'altro a proposito di divertimento mi fa veramente ridere ma anche a volte nei momenti di tristezza non eccessiva ma insomma ha proprio c'è una forza c'è una forza direi misteriosa quindi sì dovrebbe essere letto da tutti penso io grazie davvero del tempo che ci ha dedicato e a risentirci grazie a lei a presto a presto